Si taglia nel polso mentre lavora in giardino 62enne trasportato in heliambulanza al torrette di Ancona. Acquaroli firma l'ordinanza lunedì ritorno in classe delle scuole superiori in presenza al 50 per cento intanto procedono senza sosta i tamponi rapidi nelle marche domani ultimo giorno di screening a Montecchio di Vallefoglia i consiglieri regionali di centrodestra invitano gli studenti a fare il test. Continua la battaglia silenziosa delle scuole di ballo ancora chiuse in difficoltà ci sentiamo messi da parte possiamo riaprire in sicurezza. Dal covid al benessere della persona il comune di Fano è arrivasta insieme per la salute al dia 9 appuntamenti in diretta streaming con medici e professionisti del settore. Botte risposta via social tra il ristoratore Umberto Carriere e Merigo Barotti per il direttore di ConfCommercio in senato nulla di serio soltanto una iniziativa politica. L'imprenditore attacca basta battaglie contro Di Mevo in giacca e camice con lo stipendio garantito. Sembrano nuvole ma sono immontive le biti della Croazia ecco le immagini mozzafiato scattate da Ancona tra poco in collegamento con il fotografo amatoriale Gabriele Palluca. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura apriamo con un incidente domestico perché un 62enne di Montelabate si è ferito ad un polso mentre stava facendo dei lavori di bricolage a casa. Erano circa le 12 e 30 di questa mattina quando l'uomo che stava utilizzando una smerigliatrice nel suo giardino si è ferito gravemente tagliandosi nel polso. Il 62enne è riuscito ad entrare in casa e avvertire la moglie che ha subito chiamato il 118. I sanitari hanno poi allertato l'eliambulanza atterrata poco dopo nel parco Kennedy. L'uomo è stato trasportato al torrette di Ancona. Il sindaco di Fano Massimo Seri, il segretario Pagnetti e tutta la sezione Andrea Costa del partito socialista italiano è lutto per la scomparsa di Vittorio Vitali morto all'età di 87 anni. Nel periodo lavorativo nel settore sanitario si legge in una nota è stato per molti anni impegnato in politica seguendo da attivo militante le vicissitudini del partito di Nenni e di Pertini in ambito locale. Inoltre ha ricoperto il ruolo di assessore provinciale. Ricordo con affetto, racconta Pagnetti, le telefonate che Vittorio mi faceva quando per motivi di salute si muoveva poco da casa. Ogni chiamata era ricca di contenuti e consigli preziosi. Adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità. Nelle Marche e in provincia di Pesaro e Urbino proseguono gli screening di massa. Oggi Angelica Panzieri è stata a Montecchio di Vallefoglia per fare il punto con il sindaco Ucchielli e con l'Asur Area Vassa 1. Procedono senza sosta i tamponi rapidi a Montecchio di Vallefoglia nella palestra comunale Palavitri di Via Guidi dove dal 16 gennaio scorso si stanno effettuando gli screening gratuiti di massa fondamentali per individuare ed isolare il virus da Covid-19 nei soggetti asintomatici. Il servizio rientra all'interno della grande operazione avviata dalla regione nel dicembre scorso rivolta a tutta la popolazione marchigiana. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchielli, sabato è stato uno dei primi a sottoporsi al tampone e questa mattina davanti alle telecamere di Fano TV ha voluto fare il punto della situazione. Una buona partecipazione e consideriamo che qui gran parte delle aziende avevano già fatti i tamponi perché dove c'era un caso pur nei laboratori privati però avevano fatti i tamponi. Mi pare che oltre 3.000 persone passa da sabato mattina, io l'ho fatta alle 8 già c'era la fila e sabato, domenica, lunedì, martedì e oggi che è mercoledì fino a domani sera alle 19. Una buona, corretta partecipazione. I casi non sono stati tanti quelli positivi che comunque come perversione vengono isolati così non infettano altri. Speriamo che tanta altra gente partecipi e che quindi si arriva ad una percentuale che sarà oltre il 15% secondo me che è un dato se consideriamo tutti quelli che avevano fatti che è un buon 30% perché già tanta gente l'aveva fatta. Quindi pensiamo che sia un fatto estremamente positivo. Le operazioni fino ad oggi sono proseguite in maniera ottimale, non si sono create code. L'invito per i cittadini che non si sono ancora presentati è di ricarsi al palavitri domani, ultimo giorno di screening. I cancelli saranno aperti dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Abbiamo un sito con moltissime postazioni. L'affluenza un pochino ci ha deluso nel senso che rispetto agli altri siti delle fasi precedenti si registra un lieve calo in percentuale rispetto alla potenziale affluenza calcolata sul bacino di utenze. La percentuale dei positivi grossomodo è la stessa, inferiore all'1%. E a Vallefoglia oggi c'erano anche i consiglieri regionali di maggioranza della provincia pesarese. I consiglieri hanno lanciato un appello a fare il test messo a disposizione anche degli studenti delle scuole superiori che, come da ordinanza firmata oggi dal governatore delle Marche Acquaroli, lunedì torneranno in classe per la didattica in presenza fissata al 50%. L'appello è rivolto a tutti gli studenti marchigiani per far sì che il maggior numero possibile di questi si sottoponga al tampone rapido nei punti di screening già presenti sul territorio senza alcuna prenotazione. Lo stesso invito è rivolto anche ai docenti, al personale ATA e arriva dai consiglieri regionali di centrodestra, Luca Serfilippi, Nicola Baiocchi e Giacomo Russi, che questa mattina hanno illustrato la proposta di fronte al Palavitri di Montecchio, la palestra comunale del comune di Vallefoglia in cui già da sabato scorso è partito lo screening di massa rivolto alla popolazione locale. Ci tenevamo a ringraziare innanzitutto gli operatori e i volontari sia dell'area vasta che della Croce Rossa e della Protezione Civile per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in tutta la nostra provincia. Detto questo, l'invito che oggi rivolgiamo in particolar modo agli studenti delle scuole superiori di tamponarsi sia qui al Palavitri oggi e domani, sia negli altri punti di screening, ad esempio a Fermignano partirà dal 23 al 27, quindi ogni studente di qualsiasi città può tranquillamente venire a tamponarsi, non solo gli studenti ma anche il personale docente e il personale ATA. Questo perché prevediamo il prima possibile, sapremo tra oggi e domani, se da lunedì 25 gli studenti potranno tornare nelle scuole superiori, in base all'indice RT e ai dati che ci pervengono dalle terapie intensive. Invito il sindaco Ricci che in questi giorni abbiamo visto molto attivo per quanto riguarda questa iniziativa dei tamponi rapidi nei pressi delle scuole, purtroppo sappiamo che il personale è limitato, quindi in questo momento stiamo facendo da una parte i tamponi rapidi e dall'altra stiamo iniziando, abbiamo già iniziato, siamo i primi in Italia per la campagna delle vaccinazioni se arriveranno questi benedetti vaccini, quindi togliere personale da qui per metterlo nelle scuole significherebbe rallentare la campagna vaccinale e non tamponare tutti gli altri comuni che hanno gli stessi diritti di Fano, Pesero e Urbino. Quindi noi abbiamo sempre detto che ci teniamo anche piccoli comuni, quindi stiamo proseguendo lo screening anche in questi piccoli comuni dell'entroterra e non solo e dall'altro invitiamo e concludo gli studenti veramente a tamponarsi e quindi venire a fare il tampone rapido. E tutto il gruppo assembleare del Partito Democratico boccia le modalità stabilite dalla giunta regionale per la riapertura delle scuole. A finire nel merino dei Dem sono il sistema di tracciamento e i fondi annunciati di 3 milioni di euro per la realizzazione degli impianti di areazione nei plessi scolastici. Lo stanziamento, precisa Anna Casini, suddiviso per le 1200 scuole marchigiane e destina per ogni edificio 2500 euro, una cifra insufficiente. Inoltre, considerati i tempi dei bandi pubblici, questi impianti non potranno essere pronti né per l'anno in corso né per il prossimo. Sarebbe meglio destinare quelle risorse per i tamponi e per potenziare i trasporti. Se dentro una pandemia come quella che stiamo vivendo, ha concluso il consigliere Cesetti, una regione non riesce a garantire l'accesso alla scuola, quella regione ha fallito. E intanto le marche continuano a registrare nuovi decessi con Covid. Nelle ultime 24 ore sono morte 16 persone. Tra le vittime anche 4 pesaresi e un'anziana di Urbino. Inoltre, i positivi dell'ultima giornata sono 417, di cui 76 nella provincia di Pesero Urbino. Negli ospedali ci sono 15 pazienti in meno rispetto a ieri in calo, sia pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. E adesso passiamo all'emergenza economica. Da tanti mesi ormai molte attività sono chiuse in sofferenza, palestre, piscine e scuole di ballo, che dopo le spese sostenute per adeguare i locali alle norme anticontaggio non possono riaprire. Questa sera vi facciamo ascoltare lo sfogo di due insegnanti di danza. Balli di coppia, di gruppo e corpi che si sfiorano il ritmo della musica e l'emozione di un palcoscenico. Che cosa resta delle scuole di danza penalizzate dal susseguirsi dei decreti da inizio marzo ad oggi? È in crisi anche questo settore, con strutture chiuse in tutta Italia. Sono mesi ormai che il governo ha messo il lockdown nell'intero comparto e il problema non è soltanto economico. Le videolezioni non bastano più a chi deve formare i piccoli artisti o a chi vuole insegnare, seguire attentamente e trasmettere passione ai propri allievi. Con molta fatica proviamo a sostenerci proprio nel minimo facendo delle lezioni ovviamente online che rispetto a quello che è la normalità e fare lezioni in presenza è totalmente un lavoro diverso. Questo diciamo che è l'unico modo per riuscire ad andare avanti, per riuscire a rimanere in contatto umano anche con i nostri allievi. Certo non è la stessa cosa ovviamente perché vederli in video è comunque un mezzo un po' asettico, però è l'unica possibilità che abbiamo di sopravvivere in questo momento. Non basta dunque vedersi attraverso uno schermo ma serve socializzare, scambiarsi idee, passi e sorrisi economicamente. Poi il settore è a pezzi ma la preoccupazione più grande è per il futuro. Ci sono degli aiuti, vi sentite considerati? No, non siamo considerati affatto e anzi siamo proprio messi nell'angolo. Diciamo lo sport in generale ma quello che facciamo noi quindi la nostra arte è stata messa proprio all'angolo. Noi abbiamo cercato di utilizzare tutti i mezzi possibili per poter mettere in sicurezza tutti i ragazzi e noi riusciamo a farlo, però non ci è data la possibilità di poterlo fare. Come vi immaginate la ripartenza? Allora noi la possiamo immaginare nei modi più belli, più propositivi. Il problema è che sarà una ripartenza lunga e faticosa perché ovviamente dovremo riconquistare la fiducia dei genitori, comunque dei bambini che ormai non frequentano più da tanto tempo perché comunque ovviamente c'è paura. Nonostante noi manteniamo un regime molto rigoroso nella pulizia, nel disinfettare e tutto, però dobbiamo riconquistare questa fiducia. Ci vorrà tempo e sicuramente non sarà nell'immediato, cioè le scuole di danza il loro problema principale è rimettersi poi in gioco e in piedi. Ci vorrà un lungo periodo e se anche aprissimo adesso non saremo sicuramente agli stessi regimi di un tempo, quelli che abbiamo lasciato a marzo dell'anno scorso, assolutamente no. Quindi per noi la ripartenza sarà sicuramente lenta ed è questa la preoccupazione anche più grande perché abbiamo bisogno ancora di tempo per ritornare a quello che eravamo, ancora tanto tempo. E Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio di Pesero Urbino, intervenuto oggi sul post pubblicato ieri da ristoratore Umberto Carriera che aveva annunciato la sua presenza in Senato. Ringrazio le associazioni di categoria, aveva scritto Carriera, che hanno fatto sì che oggi in Senato ci fossi io e non loro. Rispondo perché chiamati in causa, ha detto Varotti, lui ha fatto credere di essere stato invitato nel Tempio della democrazia italiana per tentare di trovare soluzioni alla crisi che attanaglia le imprese. Nulla di tutto questo, nessun confronto con i legislatori, prosegue il direttore, nessuna audizione parlamentare. Semplicemente è stato invitato ad una conferenza stampa, una iniziativa politica organizzata dai siri e sgarbi, già noti per essere stati sostenitori del flop Io Apro. Quindi nulla di serio, nessun ruolo di rappresentanza. Solo quattro chiacchiere tra amici in una sede che viene messa a disposizione su richiesta. Quasi in contemporanea, concludeva Varotti, in un'altra aula parlamentare, noi eravamo impegnati con il ministro Patonelli a chiedere la riapertura dei ristoranti e delle altre attività, interventi sugli affitti, ristori e costo delle utenze, senza fare foto e video. E la replica di carriera non si è fatta attendere, la smetta di fare la sua battaglia personale contro di me, ha scritto l'imprenditore, io non sono nessuno, lei è un direttore. All'incontro di ieri, che ha definito vuota e demagogica iniziativa, a cui mai vorreste partecipare, c'eravate anche voi di Fipe ConfCommercio in collegamento Skype, c'erano anche Federalberghi e altre associazioni di categoria. Risolva i problemi che attanagliano le nostre categorie, siamo in ginocchio, dottor Varotti, e nei suoi collaboratori possono comprenderci, perché fate un altro lavoro, in giacca e camicia, e con lo stipendio garantito. La porta è aperta nonostante tutto, e mi permetta una piccola postilla, ha concluso Carriera. Chiamare il Senato Tempio della Democrazia dopo lo show di ieri sera mi pare utopico. E ieri è stato presentato il progetto Fano, Cammina e Informa, nove appuntamenti dedicati alla promozione della salute con medici e professionisti del settore. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Letizia Marchionni. Fugare dubbi e paure, spronando alla prevenzione e approfondendo tematiche legate alla salute in epoca di Covid. È l'obiettivo di Fano Cammina e Informa, l'iniziativa coordinata dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, realizzata in collaborazione con Asur e con l'Associazione Donne Medico, e rientrante nel progetto più ampio di promozione alla salute Fano Cammina, iniziativa che si è articolata in vari modi, passando dal gruppo di cammino, ora sospeso a causa delle restrizioni Covid, alle lezioni di ginnastica dolce online, e mettendo ora a disposizione della cittadinanza, a partire da giovedì 21 gennaio, un ciclo di nove appuntamenti online, dove medici e professionisti affronteranno numerose tematiche di salute, continuando il filo conduttore degli anni passati e integrando però anche nuovi temi e sfaccettature, la cui conoscenza risulta particolarmente utile in questa epoca Covid. Parleremo proprio del vaccino anti-Covid, parleremo dell'infodemia, questa pioggia di notizie che è equiparata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una vera e propria epidemia come quella del Covid-19, a cui siamo tutti sottoposti. Poi ci sono dei temi sicuramente inerenti agli sani stili di vita, argomenti fondamentali anche in questo periodo, perché come sappiamo è più fragile la persona a Covid-19, soprattutto agli effetti negativi del Covid-19, che soffre di malattie croniche non trasmissibili, che spesso sono dovuti a dei stili di vita non sani. E quindi abbiamo persone appunto che soffrono di ipertensione, persone che soffrono di diabete. Ritornare su questi temi, rinforzare le persone, dà alla persona il potere poi di gestire la propria salute e di poterla controllare. Un modo per essere vicini alla popolazione in questo periodo di pandemia, non abbassando però la guardia anche per quel che riguarda altre patologie. Non esiste solo le malattie legate al Covid, ma ci sono e continuano purtroppo ad avanzare, anzi in modo anche più grave, le altre malattie, che sono malattie oncologiche e le malattie cardiovascolari. Forse perché in emergenza Covid si ha anche un po' più di paura ad andare ad accedere a tutte quelle che sono le metodiche di screening, di diagnosi precoce delle altre malattie. Quindi con questa riduzione le malattie vengono diagnosticate in tempi più lontani e quindi questo va a scapito della salute delle persone. Sarà possibile seguirli sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Fano e sulla pagina Facebook del progetto Fano Cammina. Sarà possibile intervenire in diretta oppure contattare la segreteria dell'assessorato del Comune attraverso i riferimenti che abbiamo inserito anche in Locandina i giorni precedenti per porre le proprie domande, i propri dubbi, perché l'obiettivo di questo ciclo di appuntamenti è proprio quello di essere a fianco della popolazione e sostenerlo in questo delicato percorso che stiamo vivendo tutti insieme. Ed è stato ultimato il lavoro di pulizia del sottopasso di San Cristoforo a Fano ne dà notizia all'assessore al decoro urbano Barbara Brunori che si era presa l'impegno grazie anche alla collaborazione di Aset e S.P.A. L'opera era stata realizzata per l'attraversamento ciclo pedonale nel 2004 ma non è mai stata utilizzata diventando nel tempo un luogo di bivacco e di sporcizia. E adesso vi facciamo vedere uno spettacolo straordinario quello delle montagne della Croazia visibili da Ancona. Direttore. Sì Simona, poco fa avete visto le immagini, le fotografie del sottopasso in quel caso non possiamo parlare certamente di opera d'arte ma in questo caso invece questa fotografia è una vera opera d'arte. Come potete vedere questa è la cattedrale di San Cirioco, siamo ad Ancona e qua dietro sono i monti della Croazia innevati. Questa fotografia è stata realizzata qualche giorno fa da un ragazzo che si chiama Gabriele che è collegato con noi che io saluto e ringrazio. Gabriele, intanto... Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Allora, tu hai realizzato questa fotografia, questo spettacolo, hai la passione per la foto ovviamente, questo era sottointeso, si capisce. l'hai postata sul tuo profilo Facebook, tanti like ma anche tante polemiche o meglio critiche o meglio gente incredula che diceva che questa fotografia molto probabilmente era un fotomontaggio. Allora diciamo subito, prima di raccontarci come hai fatto, che questa fotografia è originale, non c'è niente di fotomontaggio. Sì, originale 100%, è lo sviluppo del file RAW scattato con una reflex e poi sviluppato come a suo tempo si faceva con la pellicola. Le montagne sono lì proprio come nel file originale. Allora, diciamo subito intanto quando l'hai scattata, in che orario e soprattutto come hai fatto a immortalare questo spettacolo. Sì, l'ho scattata venerdì scorso, subito dopo pranzo. Mi ha scritto un mio caro amico dicendomi che da Pietro alla Croce si vedevano i monti velebiti della Croazia. Io già li avevo ripresi, lui si ricordava di questo e mi ha scritto e io prima di andare al lavoro sono andato a fare questo scatto che vedete. La foto è realizzata con una Canon, con una reflex Canon e con un teleobiettivo di una focale di 400 mm. Però a occhio nudo mi pare che qualcuno comunque, insomma, che aveva una buona vista, qualcosa si poteva intravedere, no? Giusto? Sì, assolutamente. Si vedevano molto bene anche ad occhio nudo. Io questi che ho ripreso poi sono la parte settentrionale dei monti velebiti, che si dividono anche in una parte centrale e in una parte meridionale. Di tutta la catena ho fatto anche un video che ancora non ho editato, che poi più avanti metterò. Quindi si vede come praticamente un'isola. Esatto, anche per placare praticamente tutte queste persone che si sono scatenate sui social e ti hanno accusato di aver postato una foto assolutamente falsa. Ma per curiosità, prima di salutarci, vorrei invece andare dall'altra parte, quindi dalla Croazia, perché la vigilia di Natale del 2019, andiamo a vedere quest'altra fotografia a schermo pieno, Riccardo, ecco, questo invece, questo in fondo è il Montevettore, quindi l'Italia, fotografata dalla Croazia. Quindi il fotografo in questo caso è Aleksandar Gospic, la vigilia di Natale del 2019 ha postato sul suo profilo questa immagine che è straordinaria. Vedete, questi, se torniamo un attimo in studio, Riccardo, ecco, allora, questi sono i monti chiaramente della Croazia e questi qua, sullo sfondo, con questa fascia di, se vogliamo, un po' di foschia, ecco, e poi sopra le vette del Montevettore che sono 2.000 e passa metri, insomma, comincia a essere importante. Però adesso torniamo da Gabriele, torniamo dalla fotografia, diciamo, quella più importante scattata dall'Italia. Tra l'altro per i fanesi che volessero tentare adesso, da adesso in poi, a vedere se dall'altra parte si vede qualche cosa, dalla spiaggia di Fano, insomma, dalle colline, quindi Monte Giove, per esempio, potrebbero ammirare l'isola lunga. Ecco, io ho avuto la fortuna di vederla dieci anni fa, poi non l'ho più rivista, ma comunque si può vedere l'isola lunga della Croazia. Allora, intanto, grazie a Gabriele, per questo. Torniamo a vedere un attimo la foto, questo capolavoro, in attesa di altri scatti. Tu sei più fortunato di me, ogni tanto ti capita di rivedere i Monti della Croazia, quindi, insomma, è una bella cosa, una bella opportunità. Va bene? Grazie, allora, grazie a te per questo tuo intervento. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie. Bene, grazie Marco, grazie a te e al tuo ospite. Adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Fortunato Peroni che oggi festeggia 101 anni. Il centenario è nato a Fano il 20 gennaio 1920 ed è terzultimo di Sette Fratelli. Abita nella frazione di Bellocchi e nella sua vita, tra le altre cose, ha affrontato gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, partecipando alla difesa contraerea nella città di Palermo. Fortunato è sopravvissuto al bombardamento, di cui ricorda ancora ogni particolare, perché è un uomo molto lucido, ama il buon cibo con un buon bicchiere di vino che non deve mai mancare. Dice, inoltre, ci raccontano i familiari, è stato un grande lavoratore, un volto noto, in particolare nel suo quartiere, dove per quasi 50 anni ha gestito un negozio di genere alimentare insieme alla moglie scomparsa sette anni fa. Fortunato ha tre figli, Lucio, Fiorenzo e Filippo, cinque nipoti e sette pronipoti. Auguri davvero da parte di tutto lo staff di Fano TV, noi ci salutiamo qua, l'informazione torna domani mattina alle sette con la Rassegna Stampa. Arrivederci.